estate via i vestiti lunghi ma io ho la cellulite capisco ma chi non ha la cellulite alzi la mano la temuta cellulite non è solo un inestetismo ma uno squilibrio fisiologico dobbiamo fare come dicono i saggi orientali se curiamo le cause eliminiamo gli effetti e allora combattiamo le cause della cellulite lo stile di vita non adatto ai tessuti del nostro corpo causa la cellulite come prima cosa attenzione al cibo i cibi peggiori sono eccesso di sale zuccheri condimenti grassi formaggi e proteine animali poi aumentare la quantità di frutta e verdura cruda ogni giorno altri nemici sono caffè alcol bibite gassate e fumo meglio bere tanta acqua naturale lontano dai pasti almeno due litri camminare ogni giorno per almeno 30 minuti con passo sostenuto usare rimedi naturali quelli drenanti e depurativi al mattino estratto liquido di betulla da bere con la bottiglietta d'acqua a pranzo estratto di centella prima di mangiare dopo cena tisana di tarassaco trucchetto prima di fare la doccia passare sulla pelle asciutta una spazzola per il corpo sulle zone colpite dalla cellulite fare leggeri movimenti circolari e concludere la doccia con un bel getto freddo per almeno quattro minuti ogni giorno così per un mese e i risultati si vedranno molto presto e in più ti sentirai meglio se ami la salute naturale metti un mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao